è qua mamma mia butta da dentro possiamo raccontarlo Alessandra? tanto insomma il bello della diretta è questo assolutamente sì un po' di problemucci, treno, traffico strano perché comunque non fa mai ritardo il treno quindi è tanto strano però sono arrivata giusto in tempo? col cappottino col cappottino cioè a questa donna non abbiamo neanche dato un bicchiere d'acqua e non c'è stato tempo quindi non è colpa vostra, è stata colpa mia ci faremo perdonare intanto grazie per essere qua per noi è un grande piacere ospitarti è uscito questo disco veramente vederti col cappottino però mi fa un po' effetto brava, toglilo, grazie allora intanto che Alessandra si toglie il cappotto lo dico, lei ha detto ho fatto come Lady Gaga c'è un video di Lady Gaga che gira da qualche ora di lei sul taxi in Italia che dice una parolaccia sì, cos'è l'altro ieri prima? sì, l'altro ieri che cazzo succede? eccola devo dire quello che vuoi lei deve dimostrare in qualche modo che le sue origini italiane insomma sono ben radicate dentro di lei quindi queste cose su queste cose è perfettamente assurda la prima cosa che impari quando arrivi in Italia sono le parolacce le parolacce ma indipendentemente poi se tu vieni, vai e così cioè la prima cosa che chiedi ma come si dice quello che è una parolaccia in realtà sempre e a lei tra l'altro ci prende gusto non è la prima volta che l'ha utilizzata anche fuori dalle dalle è bello un po' colorare no? è bello vivere a colori sì, dipende poi bisogna che se le senta addosso a certe cose il personaggio che dice certe cose forse lo accetti un po' di più da un altro dal quale non te l'aspetti invece magari puoi rimanere un po' sorpreso un po' io le dico tante comunque sì ma davvero? ecco vedi non me lo sarei aspettato aiutiamo tutti i genitori con i bimbi no è vero cioè a volte ne dico un po' no no tantissimo però mi scappano però le sai sono divertenti però le sai trattenere? sì sai quando sei piccolino con i tuoi genitori non le dici ma fuori con gli amici dici qualsiasi cosa perché tanto va così io crescendo eh ho iniziato a dire perché è dura devo dirti che ecco che sai a volte gonfia 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 col passare del tempo arriva un punto in cui dici adesso basta non ce la faccio più a trattenere dai però alcune volte sono divertenti cioè messe in un contesto giusto sono divertenti contestualizzate dai 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 secondo me colorano senti non siamo qua per parlare di parolacce tutto sommato anche se sarebbe un argomento interessante da dipanare in realtà è uscito un disco sì lo sanno tutti poco meno di un mese fa sì il disco della verità insomma prendiamo le tue parole per cui vogliamo capire meglio come perché questa definizione perché in realtà ho messo all'interno tutto quello che di reale vero mi è accaduto soprattutto in questi ultimi due anni quindi sia il mio percorso personale che poi questo questo fatto che la musica è arrivato prima che delle cose accadessero realmente nella mia vita e avevo proprio questa esigenza questo bisogno di di raccontarle di raccontare di raccontarmi alla gente e questo è tutto accade poi sono due anni questi particolari insomma gli ultimi due gli anni della gestazione diciamo questo un po' per tutti al di là del disco sono stati anni difficili ma tu sei una di quelle che ha avuto il coraggio comunque di parlarne cioè delle difficoltà e del fatto di averle affrontate sì perché perché secondo me come ti posso dire sensibilizzare le persone anche a alla voglia di mettersi in discussione e capire che comunque coinvolgere e tante volte affidarsi ad un professionista secondo me è la via giusta quando non si sa che pesci prendere diciamo così quando si hanno delle difficoltà oggettive nell'affrontare un determinato momento periodo io non ci trovo niente di male anzi ne parlo proprio in maniera spontanea normalissima veramente è una cosa molto bella quello che dici sembra semplice non l'hai affatto per tanti invece è un ostacolo insuperabile mettersi in gioco io penso e poi tanto o meno chiedere aiuto a qualcuno per cercare di risolvere una questione sì sì sono tutti e due degli scalini un po' difficili da affrontare oggi me ne rendo conto il fatto già di essere consapevole e il fatto di volersi mettere in discussione è difficile non è facile cioè non è che tu vai fai una chiacchiera e boom tutto si risolve assolutamente anzi forse proprio il primo periodo è quello più complicato dove praticamente ti trovi ad aprire dei cassetti che tu negli anni hai hai chiuso volutamente chiuso con l'ultimo sì bravissimo e tanto dicevi è inutile che gli riavori tanto a che mi servono e invece proprio da lì poi trovi le cause tra virgolette no e anche la spiegazione stessa e poi succede che se sei un artista tutto questo si traduce in canzoni in canzoni pieni d'amore pieni di luce perché ci tengo a dire questa cosa qui perché in fondo al tunnel insomma alla fine si vede la luce dopo la notte c'è un sorriso grande giusto così tanto per citare un artista di cui non faremo il nome però in realtà è proprio questo cioè il fatto di fare questo upgrade cercare comunque di vedere nel buio anche una piccola lucina però andare dritto all'obiettivo per me è sempre stato questo poi in realtà ho sempre avuto il sorriso e l'entusiasmo che mi hanno aiutato in tutti questi 35 anni della mia vita e poi il dare il giusto valore alle cose identificarle capirle comprenderle metabolizzarle per me è stato molto importante diciamo che non hai sprecato il tempo che abbiamo avuto a disposizione il tempo forzato che ci siamo ritrovati a disposizione nel tuo caso è stato messo a frutto insomma con questo assolutamente interiore piuttosto importante e vogliamo ascoltare uno dei frutti perché io ragazzi sono lì che la vedo a questa canzone inutile quindi la lanciamo ah sì eccola qua non voglio altro canto ah così proprio ti abbiamo aperto mentre salti e canti eccola qua che bella afona in fondo cosa ci vuole un caffè un po' d'acqua e tutto si rifà una bottiglietta cantava mentre saltava una roba che se lo facciamo mettere vengono fuori certe robe no io fra l'altro sono fermo da un anno e mezzo mi viene fastidio sicuro allora questo intanto è il disco lo mostro naturalmente a chi ha la possibilità adesso di essere davanti alla televisione quindi di vederci oltre che ascoltarci questa è la copertina molto carina del disco tutto accade l'album di cui stiamo parlando l'ultimo album di Alessandra Morosa è uscito il 22 ottobre siamo qui a raccontarlo anche perché poi questo disco fra l'altro hai un sacco di autori importantissimi qua c'è un esercito di persone assembramento c'è un assembramento di autori una roba incredibile sì in realtà sì sono tante persone che hanno fatto parte della mia vita o comunque sono entrati a far parte della mia vita e con i quali condivido anche delle cose personali e sinceramente nonostante tutte tutte persone con personalità diverse caratteri diversi modi di pensare modi di scrivere differenti tutti adatti a me non so come dire abbiamo condiviso allora mi sono aperta insomma ho raccontato e quindi ci siamo trovati bene da subito una tipo new entry nella mia vita è stato Davide Petrella e con lui tipo ci siamo presi un caffè abbiamo parlato delle nostre famiglie abbiamo scritto piuma così e poi c'è Federica Camba vabbè che lei praticamente è la mia sarta e insieme a Daniele Virginio poi c'è Daniele Magro insomma c'è un bel po' di gente Roberto Casellino sono Paolo Antonacci Paolo Antonacci c'è figlio di nipote di nipote di eh sì abbastanza di Gianni Federico Zampaglione sì ragazzi non ne usciamo più se li diciamo è un esercito quindi voglio dire lei ha fatto il suo percorso che ha poi tradotto in canzoni con la buona mano di tutto questo assolutamente sì io comunque rimango un interprete che si sta facciando al cantautorato no quindi mi piacerebbe iniziare un percorso di scrittura sì assolutamente perché sento il bisogno di dire anch'io delle cose e mi sembra giusto alla tua maniera alla mia maniera hai la fortuna di aver collaborato con dei grandi quindi sicuramente qualcosa negli anni poi si apprende possiamo dire che loro sono entrati ufficialmente a far parte della big family un po' come tutti quelli che stai incontrando in questi giorni perché sei e possiamo anche raccontare quello che ci stavi dicendo fuori onda sei in giro per i firmacopie no quindi incontri e finalmente ritorni a vedere non proprio abbracciare però a vedere i tuoi fan che tanto ti amano e che tu tanto ami io sì tantissimo sono le persone che da 13 anni a questa parte hanno reso la mia vita speciale ed è la cosa che dico a ogni fine concerto perché la verità è questa loro mi hanno aiutato tantissimo anche nei momenti di sconforto io ho iniziato che ero giovanissima quindi già il fatto di essere stata sradicata dalla propria casa famiglia quotidianità per affrontare una vita non lo so surreale io nel momento stesso in cui avevo questi momenti di sconforto che vi parlavo mi piaceva chiacchierare con loro mi piaceva ascoltare quello che avevano da dire abbiamo condiviso molto al di là del social perché oltretutto quando io ho iniziato questo percorso non c'era facebook non c'era instagram non c'era niente quindi era molto bello potersi incontrare incontrare o fuori uno studio televisivo o fuori all'albergo oppure ci prendevamo tipo delle panchine in una piazza ci raccontavamo era molto molto è molto bello senti a proposito di firmacopi oggi pomeriggio alle 4 alle 16 per essere precisi sarai al centro commerciale di petali a reggio emilia lo diciamo perché ancora non lo sapesse sulla panchina dell'amore vi aspetto c'è una panchina dell'amore molto molto particolare che vale la pena di vedere senza dare nessun tipo di anticipazione comunque ragazzi detta così sembra una cosa sporca però voi andate pure avanti con la panchina dell'amore è bello è un incontro è un incontro ma no ma ci siamo iniziosissimi mi prendo la colpa però insomma lui che amica ecco che sappiamo facciamo il nostro Antonio non si potrebbe neanche limonare tanto meno con sconcini ma ci mancherebbe basta è una cosa assolutamente improbabile in realtà è la panchina dell'amore no nel senso più bello che è famiglia certo siamo fuori da questo tunnel ma veramente guarda scusami se ti chiamo così ma a proposito di cose belle fantastiche stupende vogliamo parlare di quel 13 luglio 2022 purca no perché non è che no dietro l'angolo dopodomani è Natale tra una settimana e il 13 luglio e in realtà io sto già lavoricchiando insieme al mio direttore artistico ho una scaletta sono felicissima ci penso sempre tutti i giorni in realtà se noi troviamo il modo riusciamo a scucirti qualcosa ma non penso proprio cioè proprio no perché dovrà essere proprio una sorpresa mi deve riuscire cioè questa cosa mi deve riuscire capito io di solito sono una che si spoiler a tutto e invece devo dire che in questi ultimi anni sono stata veramente bravissima comunque ci penso tutti i giorni ah ci credo 13 luglio 2022 Alessandra Moroso a San Siro eh ok sì è stato detto lo ripetiamo perché sei la seconda artista femminile la seconda artista femminile dopo Laura Pausini ad essere sul palco di San Siro quindi tanta roba verrebbero le gambe molli solo al pensiero a me trema il cuore ma mi tremano le gambe trema molto il cuore sì spero di essere di arrivarci in una maniera totalmente centrata perché ho voglia di dare una bomba di energia di cose belle voglio condividere proprio con tutta la mia gente con voi e questo questo amore spassionato che io ho per la musica per quello che faccio e voglio di portare tanto tanto amore sì pensa che impatto emotivo Sandra sarà tanto emotivo probabilmente secondo me io adesso ancora non me ne rendo conto tu che sei altamente infiammabile tu che sei una persona altamente infiammabile dovrai veramente fare uno sforzo interiore incredibile per resistere alla lacrimuccia o a qualche emozione di quelle che tolgono devo essere onesta quando io sono andata per fare un servizio fotografico piuttosto che la conferenza stampa eccetera eccetera è stata un'emozione mi accorgo oggi che vivo le emozioni in una maniera diversa sarà anche questo percorso che ho fatto sicuramente però mi rendo conto che qualcosa in me è maturato anche sotto quello punto di vista capito quindi spero di andarci veramente superforti preparatissima assolutamente sì e tra l'altro voglio mettere il dito nella piega ma tra l'altro un mese prima poi un altro appuntamento live molto importante con delle donne meravigliose che una nessuno centomila e sono lì sono lì vicini sì ed è campovolo quindi non proprio il teatrino della parrocchia quindi sarà un'estate insomma non vogliamo ricordartelo troppo in maniera così no io non vedo l'ora che arrivisse una che l'altra sono due cose completamente differenti e spero che ci siano tante donne e tanti uomini soprattutto per una nessuno centomila noi vi aspettiamo in tantissimi e però che dire anche anche il 13 luglio insomma io vi aspetto in tantissimi certo Alessandra ti facciamo un in bocca al lupo clamoroso per tutti e due gli appuntamenti in generale per come andrà il disco insomma per tutto quello che avrai davanti crepi crepi d'amore perché in dicolare non si dice crepi ma io dico crepi d'amore è giusto c'è sempre l'amore è l'intenzione non ti piace non mi ha detto viva in realtà ti ringraziamo per essere venuta a trovarci poi non facciamo non facciamo che ci perdiamo insomma ci telefoniamo di tanto ci oh ma la finisci vabbè io vi aspetto il 13 luglio comunque ah ecco allora Antonio c'è sicuro perché come hai capito passare degli anni prima che poi magari va bene grazie intanto grazie a voi è stato un piacere ci salutiamo con la canzone dove che segna praticamente dove tutto è cominciato quella con cui abbiamo iniziato da Marti praticamente sì quella che mi ha fatto conoscere la gente sì immobile Alessandra Amorosa grazie mamma mia grazie ancora grazie a voi ciao grazie a voi grazie a voi